Ciao a tutti ragionati e benvenuti in questo episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag Oh cammina Allora qua c'è una missione templare La pena di Upton Per Dio amico, che ti è successo? Non posso andare avanti Cosa? Mio fratello? Un traditore E quella donna? Un templare? Non ho famiglia Né una moglie Perché dovrai vivere? Che mi uccidano? Non sai cosa stai dicendo amico Ti porterò al sicuro ora Che senso? Il fatto è che voglio la chiave E tu mi servi vivo Hai delle informazioni quindi ti voglio sobrio Tu sei un vero amico Vieni qui, ti ammazza! Cosa c'è da guardare? Eh appunto, che c'è da guardi? Ehm Che cosa hai detto di mia madre? Che cosa hai detto di mia madre? Che cosa hai detto di mia madre? Perché c'è una rissa? Oddio, una rissa! Come fai a salire? Qua se lo salto a pulpi Ecco fatto, l'ho detto Ti spacco i denti Così ora la pianta è disciuta Aspetta eh Aspetta Ti uccido, ti uccido Eh, eh Appugni, appugni Uh ma pure devi scegliere in bar Guarda un po' te Eh Nelle palle Eh 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 Ti sparo eh Eh Wow 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 Io qua ci muoio Devo difendere Upton E ho capito Quanti devo ammazzare Stizi Eccolo mi muore E qua muoio anch'io ora Ciccidì Attacca, attacca, attacca Contraattacca Vediamo ce la farai Upton Alleato morto Ma porco Giuda Sei un coglione Come fai a morire di una rissa Io non lo so Testa di cazzo Tu, laggiù, faccia di merda Tu cosa hai detto di mia madre? Ho detto che è adorabile Dentro e fuori Male E tu come fai? Ma se lo sanno tutti Ecco fatto Attacca Ti è buono Vai Spaccagli la faccia Che cazzo vuoi te Faccia di merda Muori Ma muori Coglione Testa di cazzo Vuoi morire? Quanti cazzo c'ete? Guarda che mi sparo a tutti Mi sparo in bocca Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi mo? Ma io devo smettere Attaccare sempre più gente Non mi ha ammazzare L'alleato Pezzo di Merda Devi morire Muori Oh non ne metti abbastanza Che cazzo Mi sto massacrando male Eh no E se muori ora Ti picchio male Mannaggia se ti massacramo Copaggia di spade Ci sono problemi Oh dove cazzo vai Mi sento bene Eh Miracole di merda Mi chiede marcio Il nome del padre Del figlio E dello spirito Ehi il padre Il figlio E lo spirito Com'è che continuo? Cerchiamo Di muoverci Ecco Il padre Il figlio E dobbiamo andare No L'importanza Oddio ma è marcio Cattiveria No Cosa importa? Indovina il doppiatore Che ha fatto sta voce Dobbiamo andare Ok dai Sta qua insieme Le donzelle Muoviamo Paga le cortigiane No No Micchia che ruto Fratello Eh Parliamone Dai Haptor Dai Difendi Oh merda Da chi devo difenderlo? Oh merda Oh merda Guardi Ok Ok Amici qui. Tranquillo. Bene. Cosa penserai adesso di me? Ho detto cose imbarazzanti. No, amico. Parlavi come un letterato. Il tradimento rende filosofo, giusto? Eh. Tu pensa. Una templata. Mio fratello sposa una templata. Dubito che succederà mai. Ho tanta paura per lui. Ti prego, devi salvarlo. Riprenditi ora. Ne ripariamo domattina. Sei un vero amico, Cameron. Sì, sì. Alleluia. Ok, 100%. Continuiamo sta merda. Continua. Nassau, missione assassino completata. No, come missione assassino? Non è la missione assassino quella. Paglia, dove dovevo andare? Ah, caccia ai templari, eccola là. Era anche relativamente semplice. Poi ci dà anche un botto di soldi, quindi. Ah, a proposito di soldi, vediamo se posso migliorare l'aggetto. Ma te sei una scimmia di merda. Fattelo dire. Cosa che posso aiutare l'aggetto di soldi? No, questa è di merda. Potenziamenti. Forza del pade di cannone. Mi sa che sarebbe l'ideale. Non riprendo le spade. No, no, no. Pade di cannone. Ok, però non mi dice il danno effettivo che fa. Quanto cazzo meno uguale 35.000? Porco cane. Riempi, vai. Qui fermo. Dai, veloce, torna al gioco. Ok. 72 metri. Brum, 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 brum. Pagina sfide. Pagina sfide. I don't give a shit. Cosa mi sape per farmi la faretra? Eh sì, la faretra. La cosa per... Fabbricazione. Fondina di pistola 4. Oh, yes. Mi manca la pistola 2 però. Merda. Pelle di megattera. Cioè, ho la pelle di coccodrillo e non la pelle di megattera. Va bene, va bene. Pelliccia di jaguaro. Oh, io ho il jaguaro bianco io. Ne avevo una. E invece ne ho 0. Uh, ha tre pistole. Figo. Ok, andiamo qui da Apton. Apton, sei ancora vivo? Vai. Leggina dei pacchi, cos'è che ha detto? Ehi, stai decisamente meglio. Passata la sbornia, ho cominciato a capire. Eh, cosa? Jing ha rovinato mio fratello e deve morire. Va bene, insomma. Ma anche Vance mi ha tradito. È un assassino. Pagherà il tradimento con la morte. In ogni caso, uno dei due ha la chiave templare. Tu sei troppo sconvolto. Lascia che ci pensi io. Ti dirò dove puoi trovarli. Nice. Cioè? Non me l'ha detto o qualcosa dove posso trovarli? Pissi di merda. Ok, trova Vance. Le Vance, le scarpe. Vai, andiamo a trovare le scarpe. Vai, Edward. Trova le scarpe. Non è che c'è gente da uccidere qua? Trova Vance. Tranquillo. Dov'è il mio Vanceino? Vance. Uh, lì c'è una cosa. Poi faccio d'arrivarci là. Ah, questi sono coccodrilli, se permetti. E non mi piacciono. Prima di andare a giudare. Non ci fai a dare? Sì. Bene. Ok. V... Qua se mi dice che Vance è tipo lì, quindi. Allora. Vance... Mi sa che è tipo proprio lì. Eh... Eh sì, sarà al centro, cazzo. Come ci arriviamo lì? Allora. Si fa così. Prendi per localizzare il bersaglio. Eccolo lì il bersaglio. Eh, ho capito. Uccidi, ma fammi vedere la videocamera. Posso sedere sull'albero? No, da qui no. Se no, faccio una bella uccisione dall'alto. Una di quelle bestia. Ma sai che ti dico? Uccidilo e basta. Ok. Eh, ok. Chissà perché non c'era lui la chiave. Vorrei mi toccare a uccidere tutti. Io non farò la sua fine. Ok. Perché gli occhi rossi? È un demone. Ah, ok. Ho rubato quella vera. Le due metà. Ce l'ha mio marito. Tuo marito? Un uomo migliore di tutti loro. Mi spiace per te. Ma perché gli hai chiuso gli occhi? Oh, che cosa stai facendo? Ah, pensavo spogliato. Ho detto, cazzo, no. Ok. Bene. Allora. Fuggi dalla zona. Andiamo, non posso andare. Interessante, insomma. Dove... Cazzo, sento le zanzare. Prima di andare di qua. Mica se le zanzare qua, paludosa, bestia, insomma, sta roba. Eccoci qua, fuori. Missione completata. Caccia templari, quattro. Missione quattro. Regione dei pirati, re dei sciocchi. Continuo. Quanti soldi mi hai dato? Tanti soldi, spero. Tanti... Uh, siamo a 6.000. Completa le caccia templari per ottenere la chiave e sbloccare l'armatura templare. Due... Due su cinque chiavi ottenute. Ok. Ok. E qui non possiamo più fare missioni, quindi. Esatto, esatto. Non possiamo più fare missioni. Peccato. Perché qua è rosso? Andiamo ad ammazzare un po' di gente. Corriere. Oh, il corriere. Yes, old bitch. Dammi i soldi. Cazzo è sto rumore? Ah, la gente che se ne va. Questo... Ah, no, vende armi. Va bene. Ricarica le pistole. E andiamo... Ah, no, ma l'ho già sbloccato. Ah, è la villa. Ok, capito. Allora, potremmo andare alle missioni, allora. È qui. Missione principale. Vai così, bella lì. La bestia. Na, 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 na. Na, 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 na. Sorry, dovevo farlo. Oh. Oh, il che tu vuoi? Il che tu vuoi da me? Eh, se mi ha... Eh, eh, ah, eh, ah. Eh, you're ahead. Easy, peasy, le mosquise, insomma. dammi... dammi punizioni mi servono ah... posso tra degli CR ok, salim qua brum 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 brum... boom brum 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 oh troietta a no chiediamo udenza sequenza 7 7 chi sei? bene ci impiccheranno Giorgio si è stancato delle nostre scorrerie chi è quel di bacio? è il capitano Woods Rogers non ci tengo a trovarmelo davanti perchè lei le scolta vogliamo conferire con gli uomini che si proclamano governatori dell'isola Charles Wayne Ben Ornigold e Ed Touch venite avanti per favore saranno qui per il perdono del re che diavolo vuole fare Ornigold? eh che staranno combinando ah ancora sta roba non cambiate il decoro per deferenza voglio sentire che avete da dire dopodichè deciderò in merito molto bene è ben più di quanto mi aspettassi da un vero culo prometto un trattamento equo a chi mi ascolta aspettate un momento governatore Rogers questi ladri non rispettano alcun fatto calma ho promesso al capitano Ornigold un trattamento equo non vi servirà niente uomini come lui mabbia non la repubblica del re sono un caldo che abbrige sali 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 aspetta usiamo l'ardire il fulore oh merda vabbè dovrebbe morire ora dovrebbe merda ok ok allora devo semplicemente ipnotizzarlo tipo va bene va bene va bene basta dirlo ho guardare il vostro deciso capitan Ornigold temevo che un incontro sarebbe stato alto non scambiate il decoro per deferenza governatore ahah voglio sentire che avete da dire o di che deciderò in merito molto bene è ben più di quanto mi aspettassi per un vero culo prometto un trattamento equo aspettate un momento lo governatore Rodin questi lani non rispettano alcun pazzo calma Commodoro Chamberlain metta ho promesso al capitano Ornigold un trattamento equo non vi servirà niente uomini come lui macchiano la reputazione del re sono un cancro che abbrige il nuovo mondo dobbiamo impicciarli tutti ecco la verità oh merda e da qui ci vanno io quanto c'è di più simile qui incredibile smorca lurida come un cane ahah capitano Ornigold chiamate i vostri uomini Rakan, Vail il governatore vi vuole eh portate anche Burgess e Cochran ok ahah ahah oh merda segui Woodes eh merda cioè se non lo faccio per i tetti qua è impossibile eh no eh no eh no dai 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 ahah dai 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 ok si 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 bastardi bastardi oh meglio oh merda va la 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 lucha aha oh merda e anche se sono armati li superiamo il numero e di molti la persuasione è un'arma la dentro ah la dove abbiamo fermato a devale da essere ucciso malamente what the fuck ah no ho sbagliato dardo merda ora sono io il governatore secondo il volere di me e sarò io a decidere come chi mi è grato io sono spiegato si certo i vostri ordini sono cristallini ok è morto devo andare lì devo andare qui lo sai come faccio a pedinare lì là dentro però anche me questi sono gli ordini comodoro siamo pronti c'è? il governatore rogers vuole trasformare queste scimmie in nuove ma io no torno al tuo posto no tu no nasconditi sono nascosto o che io devo fare comunque per questo è tutto io vi saluto ciò tutto le loro due tutto le loro due